Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina politica in apertura del telegiornale, ci occupiamo del congresso dell'Udc di Gela, eletto il nuovo segretario, si tratta dell'avvocato Salvatore Incardona. Alle ultime elezioni amministrative l'Udc non c'era e ora ha voglia di riscatto di ritornare prepotentemente sulla scena politica. L'avvocato Totò Incardona, il nuovo segretario dell'Udc di Gela, è stato eletto ieri nel corso del congresso che si è tenuto nei locali dell'ex chesetta San Biagio. Presidente del partito è stata nominata Patrizia Comandatore. Fanno parte del direttivo il vice segretario Giovanni Giudice ed il vice presidente dell'Assemblea Giuseppe Anzaldi. Alle ultime elezioni amministrative l'Udc non c'era e ora ha voglia di riscatto di ritornare prepotentemente sulla scena politica. Sono tanti gli obiettivi con cui noi ci proponiamo alla città. Io chiaramente sono orgoglioso che il partito a livello regionale abbia fatto il nome mio, un nome come dicono loro fresco, giovane e che abbia la capacità di riunire questo partito e di portarlo nuovamente al centro del lagone politico qui in città. L'Udc era tra virgolette scomparso anche se poi in realtà non è mai scomparso ma in questo periodo abbiamo studiato la situazione politica in città. Sappiamo tutti che la crisi politica sta attanagliando di gran lunga questo paese e noi appunto ci proponiamo innanzitutto con il dialogo alla gente. Ritorniamo a fare politica come un tempo, porta per porta, ascoltando le istanze della gente, ascoltando ciò che i cittadini vogliono e non facendo demagogia. La gente è stanca, la gente stufa di sentire solo ed esclusivamente frasi da demagoghi. Noi ci proponiamo, forse useremo dei metodi spiccioli, però ci proponiamo cercando di dire quello che sono i nostri progetti, progetti anche per cercare di inserirci in questa vertenza gela quali sono proprio le nostre idee senza verità e senza nasconderci. La situazione è molto complessa oggi in città, troviamo un PD spaccato, si parla addirittura di contro congresso a giorni, troviamo una situazione all'interno del Movimento 5 Stelle che non è delle migliori. Chiaramente noi stiamo lavorando già da mesi all'unità di questo partito, grazie all'intervento dell'On. Micichetta e del Segretario Bellina sono stati intensi i giorni che hanno condotto questo congresso, chiaramente vorremmo dialogare con tutti. L'assessore regionale alla lavoro Gianluca Micichè. Oggi a Gela abbiamo, come dici, un elemento in più per dedicarci ai problemi della città e non alla politica politicante vecchia di vecchio stampo che ha creato questo disastro a Gela e non so. Ho il dovere e l'obbligo di collaborare con questa amministrazione se questa amministrazione lavora per i cittadini gelesi. Non ho motivo di pensare il contrario, al di là dell'appartenenza, per cui le collaborazioni e istituzioni sono dovute e sono di obbligo e stanno andando avanti. Al congresso di ieri erano presenti anche la segretaria provinciale Angelo Bellina, il commissario cittadino Gaetano Carluzzo ed il responsabile Aria Sud Luigi Pucci. E sbarca anche a Gela il Si Cambia Day. Una giornata di raccolta firme con quattro proposte per abbattere i costi della politica stop a Gettonopoli, alla corruzione e rilancio dello statuto della regione siciliana. L'iniziativa messa in campo dalla corrente dei coraggiosi del PD che fa capo a Fabrizio Ferrandelli rappresenta un modo per dire basta al governo di Crocetta. Centinaia le firme raccolte in poche ore a conferma, si legge in una nota firmata dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandracia e dal Consigliere Salvatore Gallo, della grande voglia di partecipazione democratica da parte dei cittadini che legittimamente pretendono cambiamento concreto, coerenza fuori e dentro le istituzioni. I due consigli ed eletti nelle fila del PD bocciano il modo in cui il centrosinistra ha governato a Gela. La città, dicono, è ridotta ai minimi termini ed il regalo ai 5 stelle è una lezione alla prepotenza politica che non paga mai. Il centrosinistra va ricostruito attraverso un nuovo rapporto con la città basato su esempi e valori certi. Oggi, più di ieri, affermano ancora Asia e Gallo, i coraggiosi con Ferrandelli, anche a Gela, intensificheranno la presenza e le iniziative aperte a tutti i cittadini. Gela ha bisogno di coerenza e lealtà. Cambiamo argomento, protesta degli operatori del servizio antincendio del Porto Isola, rischiano 24 lavoratori su 49, oggi sit-in dinanzi agli uffici della Capitaneria di Porto. La grave crisi che interessa lo stabilimento Enidig la colpisce anche gli operatori del servizio antincendio del Porto Isola. Rischiano 24 lavoratori su 49. La società siracusana Archimede, infatti, deve rivedere la portata del servizio in merito alla riduzione delle attività nell'area del Porto Isola. Dunque, all'orizzonte si paventa un ridimensionamento dei lavoratori. Non ci stanno le sigle sindacali. Questa mattina sit-in dinanzi agli uffici della Capitaneria di Porto. Abbiamo processato pacificamente davanti alla Capitaneria di Porto e abbiamo incontrato il comandante per avere chiarimento in merito. Il comandante è stato chiarissimo. È stato chiarissimo in cui ha detto con molta onestà intellettuale che ci sarà un anno di prorogo per quanto riguarda l'Archimede. E noi abbiamo un incontro in corso per quanto riguarda l'apertura di Caltanessetta per chiarire questa situazione delicata e anche nello stesso tempo per dare sicurezza il Porto Isola di Gero. Purtroppo nel giro di pochi anni siamo passati da 80 navi a 3-4 navi al mese. Di conseguenza, come abbiamo visto, un adeguamento di tutti i servizi, dagli ormeggiatori ai piloti, i piloti erano 5, ne è rimasto 1, gli ormeggiatori sono rimasti in 16, erano 20, ci serve anche un adeguamento per quanto riguarda gli altri servizi. Un adeguamento che non debba essere, non debba rientrare in licenziamenti o misure drastiche. L'adeguamento può essere anche da 5 mezzi passare a un mezzo nuovo, più funzionale e razionalizzare anche determinate squadre di lavoratori con degli asset diversi. Ma non si deve parlare assolutamente di licenziamenti e, questo lo dico a tutti quanti, la cabineria lavora a favore di chi è in porto, di tutti i lavoratori portuali a prescindere. La concessione con l'Archimede sarà regolarmente rinnovata dalla cabineria, non ci sono assolutamente problemi, l'unica cosa che abbiamo chiesto a chi gestisce questa società è di avere un nuovo piano per sapere se ci sarà un adeguamento di mezzi più nuovi e più funzionali. La raffineria so che ha diversi progetti, quindi penso che non si debba vedere soltanto in negativo questo purtroppo la crisi economica che c'è in questo momento. Naturalmente non potremo mai tornare ai tempi di 10-15 anni fa, questo è impossibile, improponibile assolutamente. Però penso che ci sia la possibilità che la raffineria, cambiando determinati obiettivi, possa sempre fornire la possibilità di un posto di lavoro e di avere un nuovo modo di lavorare a Gela. Intanto l'insabbiamento del porto rifugio di Gela produce ancora conseguenze e di poche ore addietro l'affondamento di una imbarcazione di 7 metri ormeggiata nei pressi del pontiletto della Nautica Service utilizzata dai sub. Le cause sarebbero da debitare al forte vento delle ultime ore che avrebbe più volto mosso il natante fino a produrre il contatto con i fondali sempre più bassi. sentiamo ai nostri microfoni il proprietario dell'imbarcazione affondata. Il maltempo e la lingua di sabbia che è aumentata spostituzionalmente durante la nottata è andata a sbattere contro la barca ormeggiata regolarmente, in sicurezza. Fino a ieri sera alle 8 e mezza ero qua ed era tutto a posto e stamattina mi hanno chiamato dicendomi che la barca è andata a fondo. E questi danni chi li paga? A chi li devi pagare io? Non è che il comune o c'è qualche ente che mi possa... Anche se i danni non sono causati da me stesso, ma causati dal problema della sabbia del porto, la sabbia di Amaniale, a chi devo fare causa? Io non lo so, cioè io come ditta non so nemmeno quello che devo dire, perché i danni sono parecchi, saranno sui 30.000 euro di danni. Però non so nemmeno a chi dovrei chiedere. Cioè io non sto lavorando, la barca era l'unico mezzo di sostentamento per poter lavorare con la ditta. Non lo so, non so se c'è qualcuno che mi può aiutare, che mi dà qualche consiglio per risplicare queste carte, per vedere di recuperare qualche cosa, che ben venga, se no niente, pazienza. Mi piangerò su me stesso i danni che sono successi, praticamente prenderò la barca, la tiro, la metto fuori e quando sarà, se sarà, o si demolisce o se inizia a lavorare si aggiusta la barca. Primi riscontri operativi all'ultimo faccia a faccia tra l'amministrazione comunale di Gela e lato idrico. Nella riunione dello scorso 16 febbraio, tra le questioni poste sul tavolo, il sindaco Domenico Messinese aveva sollevato quelle relative al programma di realizzazione delle reti idriche e fognarie di Manfria e all'impianto di sollevamento al depuratore di Macchitella. Per accelerare l'iter, l'ambito territoriale ottimale, ha chiesto al Comune di indicare un responsabile unico del procedimento con la qualifica di ingegnere che possa seguire i progetti esecutivi. Il primo cittadino ha così indicato come RUP il funzionario tecnico in servizio al settore ambiente, Roberto Capizzello. Toccherà dunque adesso al lato formalizzare la nomina. Si chiama Nice2PCU, il progetto presentato dall'associazione di promozione sociale ShipLab di Gela, rivolto a possibili partner. L'obiettivo è quello di incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio locale. Durante l'incontro che si è svolto nei locali di Palazzo Mattina, sono state approfondite alcune tematiche riguardanti l'innovazione ed i benefici di sviluppo territoriale, oltre ad una panoramica sui vantaggi fiscali derivanti dall'investimento su imprese innovative e start-up. Da dove è nata l'idea per la vostra associazione di creare un percorso di accompagnamento per le start-up? Farete da anello di congiunzione tra i giovani che porteranno delle idee e coloro i quali invece saranno disposti a finanziarle? Questi giovani start-up che esistono, sono tanti nel nostro territorio, hanno solo voglia di emergere e questo lo si può fare grazie anche a chi può essere disponibile ad investire. Ci sono delle agevolazioni fiscali per chi intende avviare delle start-up e sostenerle economicamente? Sì, il governo ha presentato delle riforme di legge che mirano proprio a promuovere la nascita di imprese innovative ma anche l'innovazione delle imprese tradizionali. Questo verrà presentato da un professionista competente e con tutti i vantaggi che insomma sono previsti. Per chi volesse contattarvi, come può trovarvi? Ci può trovare tramite la nostra pagina Facebook ShipLab oppure tramite la mail www.shiplabgelacchiocciolagmail.com o il sito www.shiplab.it L'evento di sabato ora presentato è un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori al fine di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti riguardanti la tecnologia, la smart city, il turismo, il sociale, l'agroalimentare e l'arte. Palazzo Mattina ospita una iniziativa promossa da giovani e rivolta a tutti coloro i quali abbiano intenzione di creare un'inversione di tendenza nell'aspetto economico di questa città. Un'iniziativa importante, portata avanti da giovani, portata avanti come start-up e quindi non potevamo che accogliere con piacere e con grande positività questo evento. Ragazzi meritevoli effettivamente di avere una collaborazione e che quindi riteniamo opportuno che insomma vada gestita nel migliore dei modi. Aveva appena 11 anni Emanuela Bonura e frequentava la prima C della scuola media Paolo Emiliani Giudici di Gela. La sua giovane vita venne stroncata da uno tragico incidente assieme a quella del suo fratellino Nunzio la mattina del 1 marzo 1975. Sono passati 41 anni da quel tragico giorno e a 41 anni da quella disgrazia che colpì l'intera città. La scuola Paolo Emiliani Giudici vuole ricordare i due fratellini con una cerimonia commemorativa. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico Giovanna Palazzolo e dall'intero consiglio di istituto. La cerimonia si svolgerà domani 1 marzo alle 10 nella cappella della scuola dove verrà ricollocata una targa ricordo alla presenza dei genitori dei due sfortunati bambini, gli ex alunni e docenti dell'allora prima C. Prenderanno parte alla commemorazione il sindaco Domenico Messinese, il procuratore Lucia Lotti e Salvatore Parla Greco, ex docente e direttore di Sicilia Informazioni e presidente del Cerisdi. Parteciperanno anche il comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Gela, il maggiore Valerio Marra ed il comandante della polizia municipale Giuseppe Montara. E adesso parliamo dell'incontro che si è tenuto oggi nella scuola Ettore Romagnoli di Gela dal tema i ragazzi e il diritto alla bellezza. I ragazzi e il diritto alla bellezza è il tema trattato oggi nell'aula magna dell'istituto scolastico Ettore Romagnoli di Gela nell'ambito dell'incontro promosso dal dirigente Sandra Scicolone. Gli studenti hanno presentato i lavori di ricerca realizzati per l'evento che rientra nelle iniziative ProUnicef. Noi siamo scuola dei bambini e quindi dobbiamo garantire i diritti dei bambini e dei ragazzi. L'articolo 12 della convenzione dice che proprio va data massima libertà di espressione ai pensieri e alle considerazioni dei ragazzi. In secondo luogo ci permette oggi di parlare insieme ai nostri studenti di un argomento importante, di quello che è il paesaggio di questa città, di come esso venga percepito dagli studenti, di come in loro si sia formato nella loro ancora breve esistenza l'idea del bello e del brutto. Ecco, con l'accompagnamento, con la guida di un docente universitario che con grande umiltà si mette a disposizione di ragazzi della scuola secondaria di primo grado e allora con questa guida speciale noi speriamo di iniziare un percorso di avvicinamento dei bambini a quello che è un loro diritto, il diritto alla bellezza. L'incontro di oggi è visto la presenza di Gianfranco Tuzzolino, docente di composizione architettonica ed urbana della Facoltà di Architettura di Palermo. Incontrare gli studenti di questa fascia d'età e parlare soprattutto di quello che abbiamo concordato con la dirigente Scicolone, cioè la bellezza, secondo me è una grande opportunità. Abbiamo voluto fortemente questo momento perché credo che sia utile riscoprire, intanto dialogare con gli studenti, con i ragazzi e poi cercare di capire qual è la loro percezione della bellezza, come si orientano nel paesaggio contemporaneo e che percezione hanno di questa città, Gela, che ha un insediamento straordinario, che ha delle qualità straordinarie che sono però nel tempo state soffocate da una modernità un po' troppo invadente. Quindi è utile capire al di là delle superfetazioni, delle stratificazioni che Gela ha avuto negli ultimi anni, quali sono ancora i germi di bellezza che essa possiede. E fare questo ragionamento con i bambini, con i ragazzi, mi sembra molto interessante perché è da loro che si può tentare, e attraverso la loro intelligenza, attraverso il loro futuro, che si può tentare di ridare, restituire la giusta dimensione al paesaggio contemporaneo, di dare la giusta cura ai nostri luoghi, che meritano davvero tanto. Straordinario risultato per il jazzista gelese Samuele Mammano. In un talent che si è svolto negli Stati Uniti d'America, Mammano, dopo aver superato tre selezioni durissime, è riuscito a confermarsi tra i migliori musicisti attualmente in circolazione. Un traguardo importante. Samuele Mammano si è confrontato con talenti di tutto il mondo, riuscendo ad ottenere il pass per esibirsi nei concerti in America. Il talentuoso jazzista gelese è stato premiato dal celebre musicista Dave Coates. Il talent itinerante ha fatto tappa nelle Isole Vergini e a Porto Rico. Ed in conclusione della prima parte del telegiornale, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10. Nostro ospite è Toto Vitale, presidente della sezione scout Fabio Rampulla di Gela. Le repliche sono previste alla mezzanotte e la domenica dopo alle 18. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, per gli ultra 65 anni ed i portatori di handicap gravi che hanno fatto richiesta di assistenza domiciliare, è stato prorogato al prossimo 3 marzo il termine per presentare all'ufficio del protocollo del Comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente. In un primo momento le scadenze erano state fissate allo scorso 12 febbraio. La Confesercenti dell'area sud della provincia di Caltanissetta, diretta da Roccopardo, informa gli utenti che il termine di pagamento per il rinnovo degli abbonamenti, SIAE, sarà prorogato al 18 marzo prossimo. Inoltre, per tutti coloro che fossero interessati ad usufruire dello sconto per il rinnovo dell'abbonamento, possono rivolgersi presso l'ufficio di Corso Vittorio Emanuele al Civico 45. Fino al 17 marzo prossimo si svolge a Gela, presso i locali della Chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca Palazzo di Città, il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldi ha dal titolo La Sostenibilità nel Paesaggio Agricolo del Golfo di Gela. Il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico, affrontando temi concreti per la gestione, progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di un'agricoltura sostenibile. Interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania e esperti del settore. La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona. Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 Paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente. Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace, alla comunicazione, al dialogo interculturale. Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica. Dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita. In basso un pensiero di pace ispirato dal disegno. I disegni migliori, sei per ogni scuola, dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente. I tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo. Sono previsti premi in denaro. È stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico Le Dune Gelesi, promosso dalla Soroptimist di Gela e rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini. Le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto CD in formato JPEG con dimensioni minime di 3 MB e massime di 10 MB. E ora apriamo la pagina dello sport, calcio, il Gela vince a Mazzara e svetta in classifica nel girone A del campionato di eccellenza. Il Gela vola e per la prima volta dopo 24 giornate comanda da solo il girone A del torneo di eccellenza. Finalmente, ieri la squadra biancazzurra sul difficilissimo campo del Mazzara ha conquistato l'intera posta in palio offrendo una prestazione di altissima levatura contro un avversario ostico. Un 2-1 ottenuto con la forza di una squadra che quando gioca così come pretende il suo tecnico non ha paura di niente e di nessuno. Tre punti di platino che lanciano in orbita la navicella biancazzurra. Il Gela adesso è primo da solo con 49 punti e grazie alla sconfitta rimediata dal Dattino Noir in casa del Camarat ha un vantaggio di tre lunghezze sui trepanesi, a loro volta raggiunti al secondo posto dalla San Cataldese, vittoriosa con il Cus Palermo. Perde terreno quasi definitivamente dalla zona alta della classifica il Castelbuono sconfitto dal Paceco. È una lotta a tre per il salto di categoria. Gela, Dattino e San Cataldese se la giocheranno fino alla fine. Ieri i gelesi hanno firmato una vittoria di prestigio dopo tre pareggi consecutivi fuori dalle mura amiche. Lo avevamo detto in settimana, ci vuole il colpaccio in trasferta e così è stato. I gol sono stati realizzati da Bonaffini al decimo e da Mincic al ventinovesimo del primo tempo. Il Mazzara ha accorciato le distanze con Rosella nella ripresa. La formazione allenata da Tommaso Napoli ha poi provato ad agguantare il pari, ma sulla sua strada ha trovato un pandolfo semplicemente straordinario. Vincere a Mazzara non era facile tutt'altro. Era, come aveva sottolineato lo stesso tecnico Toto Bruculeri il giorno prima della gara, una partita da tripla. Avere conseguito il risultato pieno è semplicemente straordinario. Adesso non bisogna più fermarsi. A cominciare da domenica prossima, quando il Presti sarà di scena, la libertà sarà calmuto, ultima in classifica. Sulla carta l'impegno è facile, ma attenzione perché, così come già accaduto, ogni qualvolta le cosiddette piccole affrontano il Gela, centuplicano le loro forze. Adesso più che mai, considerato che il Gela è capolista. Nel campionato di promozione va malissimo alle due squadre Gelesi, entrambe sconfitte. L'atletico Gela è stato battuto in casa dal Castel Termini per 2-1 ed il Macchitella è stato sconfitto per 3-0 dal Santa Croce. In casa Gela Rossa, subito dopo la gara, è stato esonerato il tecnico Peppe Misiti. In classifica, l'atletico perde contatto dalla zona play-off, mentre i biancorossi, allenati da Mirko Fauciana, annaspano a ridosso della zona play-out. La Gymnastics Club Gela, diretta da Walter Micichesi, conferma fucina di campioni. Al Pala Igor di Novara, infatti, la giovane ginnasta Giulia Di Dio ha conquistato il titolo di campionessa italiana di cheerleading, specialità P.U. Individual. Il titolo nazionale è stato conquistato anche da Biaggio in Cardona e Claudia Cascino, che hanno gareggiato in coppia nella categoria Partner Stunt Senior livello 6. Sia in Cardona che Cascino hanno ottenuto il lascia passare per la finale europea di Vienna, dove saranno chiamati a rappresentare i colori italiani. Alle spalle della piccola Giulia Di Dio si è classificata Beatrice Tripodo, altra atleta gelese e portacolori della Gymnastics Club. I giovani atleti gelesi sono allenati da Simona Scerra. La pagina dello spettacolo sono due i film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Machitella a Gela, alle 17.30 Gioi e alle 19.30 e 21.30 Il labirinto del silenzio. Con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo le informazioni di oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.